originalità e comfort ai massimi livelli parliamo di un veicolo usato recentissimo un magnifico esemplare lo Chasson Welcome 610 adatto alla coppia o anche a quattro persone perché? perché abbiamo un basculante elettrico matrimoniale con spazi ampissimi e la possibilità di creare grazie alla dinetta il tavolo elettrico un matrimoniale in pochissimi istanti e anche dotato di un bagno particolarmente comodo abbiamo il frigorifero da 145 litri garage che può ospitare comodamente uno scooter un motore generoso e molto contenuto nei consumi che è il transit 22 155 cavalli il veicolo è proposto soli 44.900 euro si può finanziare in 120 mesi con il tasso pari al nuovo e mi raccomando venite a vederlo perché è un'occasione unica irripetibile a